Dall'inizio della stagione estiva ad oggi quali sono stati gli interventi effettuati dalla polizia locale? Noi ne abbiamo fatti diversi e li abbiamo già fatti anche congiuntamente con altre forze di polizia, in particolare con la Capitaneria di Porto e siamo arrivati a fare già 32 sequestri amministrativi e uno penale. La differenza è che sequestro è di natura penale quando ad oggetto delle merci contraffatte, altrimenti gli altri invece sono di natura amministrativa perché violano soltanto la legge regionale e quindi la conseguenza non è poi una denuncia all'autorità giudiziaria ma è una sanzione per colui che vende queste merci. Invece che cosa rischia chi compra da un venditore abusivo? Chi compra da un venditore abusivo ha dei rischi soltanto qualora acquisti delle merci contraffatte e qui abbiamo una normativa che è la legge 99 del 2009, prevede una sanzione che va da 100 euro fino a 7.000 euro e questa è una normativa che può sembrare penalizzante verso colui che acquista ma in realtà è stata fatta proprio a tutela degli acquirenti perché poi sappiamo che tante volte acquistare questi prodotti di cui non si sa l'origine, non si sa di quali materiali siano fatti e quindi possono creare anche un documento a colui che li acquista, ecco perché era stata emanata anche questa norma. C'è stato un intervento anche del Ministero in merito? Sì, c'è anche le ultime circolari del Ministro dell'Interno. Queste circolari sono ovviamente ad un maggior controllo contro l'abusivismo sulle spiagge e sono auspicati dei controlli da parte delle forze di polizia congiuntamente con l'ausilio delle polizie locali e dal riguardo proprio lunedì noi siamo stati convocati in prefettura sicuramente per programmare alcuni servizi al riguardo.